musica musica qui potrei per esempio iniziare a lavorare con le matite apperellabili vediamo un po' ne avevo qualcuno qui questa 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 apperellabile si uso quelle che ho a disposizione già pronte vediamo se troviamo un azzurro se ci fosse un po' un po' un bordeaux ecco una serie di matite già pronte e il famoso pennellino con l'acqua per esempio quando stiamo al mare non sappiamo non abbiamo voglia di copiare le persone o le situazioni che ci troviamo intorno possiamo con queste matite con un blocco dopo già fare dei lavori che possono essere interessanti da come studi allora con le matite io posso per esempio lavorare su dando delle sfumature leggeri e poi lavorare con un pennellino d'acqua un po' 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 con un po' un po' non un po' Allora bisogna stare attenti quando si usano le matite apparellabili di non esagerare col colore perché come mi sembra l'avevo già detto un'altra volta che l'ho utilizzato quando voi utilizzate le matite apparellabili il colore è molto concentrato quindi più metto colore più verrà forte il colore nel punto della massima della massima concentrazione e in certi casi è eccessivo qui per esempio posso giocare con questi quadratini e colorarlo uno sì o uno no cioè dare un pochettino sfogo a quello che può essere un altro e anche lì posso intervenire posso sia intervenire con l'acqua che anche no cioè se mi piace l'effetto come da una matita queste matite possono essere anche lasciate senza essere più sciolte infatti io spesso uso quelle correlabili siccome sono molto morbide le utilizzo anche come matite pure semplici senza neanche utilizzare l'acqua perché mi piace molto magari il fatto che siano in genere matite molto morbide quindi basta un piccolo passaggio per darmi un bel effetto di colore ci fermiamo qui domani una nuova lezione da 5 minuti un attimo lo sai che dal giovedì alla domenica dalle 9 e mezza di sera mi trovi su twitch mentre dipingo e disegno e chiacchiero con chi mi viene a trovare trovi il link qua sotto vieni anche tu ciao